Pescara non si ferma, oggi siamo qui in Sala Giunta per presentare l'ennesimo evento sportivo di respiro nazionale e internazionale. Facciamo un passo indietro perché lo scorso 25 aprile nei pressi della Marronnina c'è stato il primo evento dedicato al SAP. A distanza di quattro mesi Pescara è stata nuovamente scelta per la quarta tappa nazionale, il campeonato italiano. Quindi davvero un grandissimo successo, siamo molto soddisfatti per l'ennesima volta il turismo e lo sport si uniscono per realizzare un binomio perfetto. Saranno più di 100 concorrenti provenienti da tutto il territorio nazionale e internazionale e l'evento si svolgerà sabato 28 e domenica 29 presso lo stabilimento Leuai. Ci sarà da avere tanto divertimento perché insomma il meteo non sarà da nostra parte sfortunatamente quindi avremo un evento da affrontare ma siamo sicuri che avendo i migliori in Italia ci sarà tanto spettacolo quindi invitiamo tutti a venire a vedere questo sport e a venire a vedere questa gara.